Prova ad accendersi, palla in verticale per Galabinov, posizione regolare, Galabinov! E avanti le Genova con Galabinov! Grande idea di tie-out che Galabinov trasforma in gol, 1-0! Cambia la partita al minuto, 8 da vedere la posizione di partenza di Galabinov che sembrava essere regolare. Palla geniale di Tarapte, 1-0! Nasce tutto dall'errore di Ionita che la perde, la recupera Miguel Veloso, poi Tarapte tra i due centrali di difesa, Galabinov è in linea! E poi è molto bravo, molto freddo a battere Cragno in uscita, 1-0 Genova!